Intanto ciao a tutte e ciao a tutti, sono Giancani. Sì, mi ha sorpreso, non tanto per il successo in sé, ma la tematica che all'inizio non sembra pesante ma poi diventa pesante con Tania Lig, cioè è stato molto bravo Michele, in realtà dopo averla vista non mi ha sorpreso che abbia avuto quel successo che ha avuto. Da dove siete ripartiti domenica per il musicare... ah no, aspetta, sì, da dove siete ripartiti domenica per il musicare 1 o 6. Ma in realtà hanno usato delle cose che avevo già fatto nella prima stagione, in più siamo ripartiti dalla sigla, che è Sei in un paese meraviglioso, un pezzo del mio disco, e poi abbiamo fatto delle variazioni sul tema a seconda dei mood che servivano, e poi andando avanti servivano sempre cose, io e Michele ci troviamo molto in sintonia su molti aspetti, quindi è stato anche abbastanza semplice. Beh, sinceramente non lo so, ci sentiamo e mi dice su questa parte mi servirebbe una cosa un po' triste, però non troppo, ha fatto, questa è una cosa così, ti può andar bene, sì magari un po' più così, funziona in realtà in maniera del tutto naturale, senza troppe sovrastrutture fondamentalmente, quindi ci possiamo parlare liberamente di tutto, è molto molto bello. poter fare una cosa del genere. Allora, partiamo dal presupposto che per campare ho fatto credo più di 300 dischi degli altri, quindi ho dovuto ascoltare per forza una quantità di musica incredibile. L'ispirazione è ball, in realtà musicalmente derivo da una serie di ascolti totalmente pazzi, non lo so, dagli 883 a Iron Maiden, per capire i mondi estremi, e i miti che amo, a parte Max Bezzali, che abbiamo in comune sia io che Michele, miti veri diciamo che col passare degli anni sono un po' scemati, però ad oggi un disco che ancora ascolto dopo dieci anni, dieci anni esatti, che è del 2013, che è Random Access Memory dei Daft Punk, secondo me è il disco perfetto, fatto perfettamente, registrato, con dei pezzi allucinanti, assurdi. Sono molto 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 legato all'inch, quindi abbada la mente anche, perché Twin Peaks secondo me, a livello musico, immaginario, è forse il top per quanto mi riguarda, e poi ovviamente ognuno ha le sue... Se mi dovesse chiedere qualcosa, caro David, ci sto, quando vuoi. Grazie, ciao a tutti, ciao a tutte.